Certamente Torino piace. Simona, gli appuntamenti del Museo del Cane Torino. Sì, perché anche al museo c'è un bel programma ricco. Allora abbiamo le 8 e mezza della cicloturistica, più tardi, verso 10 e mezza, ci sarà l'inaugurazione della mostra dedicata a Guglielmo Gabetto. A seguire ci sarà l'inaugurazione dell'esposizione delle lapidi, che finalmente sono tornate e restaurate. È stata una battaglia nostra questa. Però sono tornate e restaurate, ma si potranno ammirare già da domenica. E ci sarà la presentazione di un libro anche che riguarderà il museo. A 12.30 ci sarà appunto la premiazione dei ciclisti che rientrano e poi, come ho detto, il museo sarà aperto sia sabato che domenica tutto il giorno e il 4 maggio tutto il giorno. Benissimo, allora io mi rubo qualche secondo dall'ultimo blocco per un paio di cose. Una mail di Giuseppe che ci scrive dalla Calabria, ci segue sempre su internet e dice Volevo dire la mia per quanto riguarda il ricordo del 4 maggio a Superga. Dal mio punto di vista, da tifoso del Toro, penso che gente come Cairo e come Chiamparino non dovrebbero salire a Superga. Io onestamente la penso in modo completamente diverso. Superga è una cosa che non si tocca. Non va contestato a Rosina, mi riferisco allo scorso anno, non va contestato a nessuno. Chiunque voglia salire a Superga, chiunque esso sia, deve avere la possibilità di farlo. A Superga si va per commuoversi, per emozionarsi, per pensare, per ricordare per quello che volete, non per contestare. Prima di andare in pubblicità vediamo quella che è la pagina della vergogna. Sono questa volta 4.668, 4, 6, 6, 8, sono i giorni della vergogna. Da venerdì 17 luglio 1997 a oggi, giovedì 29 aprile 2010. Giorni della vergogna che ovviamente sono sulla coscienza di tante persone, comprese quelle che alcuni non vorrebbero vedere a Superga. Io invece le vorrei vedere a Superga, pur evidentemente sottolineando quelle che sono evidentemente delle responsabilità politiche, morali e quant'altro. Sempre a proposito di situazione politica, siamo a più 31, più 31 da che cosa? Sono i giorni dalle elezioni di Roberto Cota, nuovo presidente della regione Piemonte. Perché? Perché Cota prima dell'elezione ha detto, virgolette, sul Filadelfia serve un progetto concreto, la regione può fare molto. Basta con le parole, servono i fatti. Noi, da giorno successivo, da più 3, andiamo avanti e glielo ricordiamo. È chiaro che nei primi 31 giorni Cota avesse altre cose cui pensare, ma il Filadelfia è sempre lì. I soldi mancano, le ipoteche sono state risolte, chissà mai se riusciamo a trovare... Cota, ha anche aggiunto che è un tifoso Granata, Cota. Allora diffidiamo dei tifosi Granata che si dichiarano, perché... A Grugliasco abbiamo il sindaco Juventino, ma sta facendo molto di più lui per il museo. Ah, già, già, è vero. E questo mi ero dimenticato di dirlo. Chiamparino, non siamo riusciti a trovare un angolo a Torino per il Museo del Grande Torino. Mi sembra un altro motivo di vergogna. Non ce l'abbiamo nella nostra grafica, ma è un altro motivo di vergogna. Pubblicità, torniamo fra poco. Grazie. 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 Grazie.